Ci troviamo con Federico Pellegrino in quella di passo di Lavazè, lo abbiamo intervistato a Dobbiago, diciamo c'è una piccola grande novità nel frattempo ma ne parleremo dopo nell'intervista. Checco, come sta procedendo questa preparazione qui a Lavazè? Beh, è iniziato il raduno abbastanza bene, abbiamo fatto un test in pista sui 3000 metri dove un paio di ragazzi hanno fatto il personale, io ho contribuito cercando di fare il metronomo come piace a me fare in pista e niente, sappiamo già come allenarci bene qui, l'anno scorso io a Lavazè ho passato 48 giorni a fronte dei 56 passati a casa mia, a Gressonei, quindi è una località che conosco molto bene, dove mi alleno molto bene. Quasi una seconda casa, mi sembra di capire, visti i giorni che ci hai passato. Ecco, da Dobbiago a Lavazè sono passati già alcuni mesi, come vedi il gruppo, visto la grande novità di Marco Skrammer, ecco come stai vedendo il gruppo, anche i giovani che si sono stati inseriti oltre a Salvadori? Il gruppo della squadra di Coppa del Mondo lo vedo bene, secondo me ci siamo discretamente comportati un po' tutti al Blink Festival, arrivando alla fine della quarta settimana di carico tutti abbastanza con le pile scariche, però ognuno nel suo è riuscito a trarre qualcosa di interessante. Anche nei lavori di tutti i giorni vedo un bel gruppo che lavora in maniera abbastanza unita e anche dei miglioramenti, non soltanto nei lavori di intensità, ma anche nei lavori un po' più lunghi. Ecco, quando ci eravamo sentiti a maggio mi avevi parlato quasi un po' di difficoltà a trovare ancora l'obiettivo giusto che magari per avere poi quella motivazione adatta anche a fare tanta preparazione. Io vedo qui, insomma stai facendo sempre tre settimane fuori con la squadra, era un sacrificio già l'anno scorso, immagino che con Greta incinta sia ancora di più. Eh sì, questa era la sorpresa che a maggio non si poteva ancora dire, però anche lì non hanno tutto bene, quindi sì, come dici tu, l'obiettivo preciso non c'è ancora in testa, continuo a rimanere concentrato sul giorno per giorno, cercando di esprimermi al meglio in ogni allenamento, raggiungendo l'obiettivo di ogni singolo allenamento. Non è stata una primavera semplice perché sono stato molto impegnato, è sempre così, d'altronde me la sono anche un po' cercata con i risultati, con la medaglia delle Olimpiadi, però dalla settimana scorsa, dal rientro della Norvegia, ho iniziato a poter stare un po' più fisso a casa, un po' più assieme a Greta che appunto ne ha bisogno. Ciò che è cambiato è che nella vita di coppia, atleti, io e Greta abbiamo trovato il nostro equilibrio ragionando sul termine casa come l'importante è che siamo assieme noi due, casa siamo noi due, qualsiasi parte del mondo siamo, adesso casa, ovviamente con Greta che è a casa, risulta essere proprio lì e quindi è un po' più difficile iniziare a stare così tanto via, però per il momento anche lì stiamo riuscendo a trovare il nostro equilibrio, cosa succederà da dicembre in poi lo vedremo lì. Infatti questo volevo chiederti se potrebbero un po' anche cambiare i tuoi programmi nel corso della stagione, nel senso se c'è la possibilità che tu possa anche saltare qualche tappa come ovvio che sia in una situazione del genere. Sì, assolutamente, il calendario della prossima stagione mi piace molto e avrei voglia di partecipare a tutte le gare così come quasi fatto l'anno scorso, però ci sono delle priorità ed è molto molto probabile che nel periodo a cavallo tra il 2022 e il 2023 qualche tappa la salterò, però non ho ancora deciso niente, tutto dipende anche da come procede con Greta e al momento siamo molto fortunati, sta andando tutto bene, quindi vedremo quando arriveremo lì. Senti, quanto è cambiata la tua vita? Ma al momento neanche troppo, sono cambiati parecchi i pensieri, anche la prospettiva del futuro è cambiata parecchio, ci penso tanto, non troppo, però è una cosa che mi piace, mi ci voleva, sia per me sia per Greta, ormai la nostra vita era veramente tanto standard, tanto focalizzata sull'obiettivo e ci siamo resi conto che iniziava un po' a pesarci il dover tralasciare, trascurare alcuni aspetti della vita privata che tutti abbiamo e che noi per nostra scelta avevamo lasciato un po' in secondo piano, invece adesso vedo anche Greta in come vive il rapporto con la famiglia che è un qualcosa che le fa bene e che effettivamente poi ti fa capire che la vita sportiva sì c'è, così come il lavoro, però poi quello che conta è la vita a casa, gli affetti.